5. Grazie a questi modellatori per sopracciglia, l'arte di definire e modellare le sopracciglia diventa ancora più semplice e precisa. La loro impugnatura antiscivolo garantisce un controllo perfetto durante l'uso, permettendo di ottenere linee precise e dettagliate. Le lame in acciaio inossidabile di alta qualità si adattano perfettamente alla pelle, offrendo una rimozione dei peli efficace e duratura. Inoltre, grazie all'impugnatura in ABS resistente e a una rete di sicurezza per proteggere la pelle, questo prodotto è delicato e non causa alcun dolore durante l'utilizzo. In descrizione trovi il link di questo prodotto. 4. Confezionati in pratici 12 modellatori, questi strumenti sono perfetti per chi desidera ottenere sopracciglia perfette in pochi semplici passi. Grazie alla lama in acciaio inossidabile e alla precisione della sua affilatura, questi modellatori permettono di rimuovere i peli sottili con estrema facilità. La loro versatilità li rende adatti a qualsiasi tipo di pelle, mentre la piccola copertura in dotazione garantisce un'ulteriore sicurezza durante l'utilizzo. Inoltre, il loro design compatto li rende perfetti da portare sempre con sé, per un'accurata cura delle sopracciglia in ogni momento e in qualsiasi luogo. Puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione. 3. La confezione di 6 modellatori per sopracciglia in 3 colori differenti è un prodotto innovativo e sicuramente da provare. Con un design studiato per offrire una rimozione dei peli delicata, sicura ed efficace, questo rasoio per peli facciali è la scelta ideale per chi cerca un'alternativa meno dolorosa rispetto a tecniche come ceretta o filo. Grazie alle lame scanalate in acciaio inox, la pelle viene protetta durante l'utilizzo e le lame mantengono la loro affilatura a lungo. Inoltre, questo epilatore non solo aiuta a scolpire le sopracciglia, ma può essere utilizzato anche per rimuovere i peli del corpo, esfoliare la pelle e per il dermaplaning. In basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto. Numero 2. Il modellatore per sopracciglia Shave It da donna è l'accessorio ideale per rimuovere i peli indesiderati in modo preciso e delicato. La striscia protettiva garantisce una protezione dalle irritazioni, mentre l'acciaio inossidabile di alta qualità assicura resistenza e precisione anche nelle zone più sensibili del viso e del corpo. Il manico ergonomico ti offre la precisione chirurgica necessaria per una rimozione precisa dei peli. Disponibile in tre colori, questo modellatore è una scelta sicura ed efficace per ottenere delle sopracciglia perfette e senza irritazioni. Se ti interessa questo prodotto o vuoi sapere il suo prezzo, clicca il link in descrizione. Numero 1. Con il Wilkinson Sword Intuition Perfect Finish, modellare le sopracciglia non è mai stato così semplice e delicato. Grazie alle sue lame di alta qualità e alle micro protezioni per la pelle, è l'ideale per rimuovere i peli sottili e per esfoliare delicatamente la pelle secca. Ma non è finita qui, perché questo strumento versatile permette anche di levigare la pelle e renderla più liscia. Inoltre, le sue dimensioni compatte lo rendono perfetto da portare con te ovunque, e il tappo protettivo garantisce che tu sia sempre pronta per un ritocco in ogni momento della giornata. Acquista questo prodotto con il link che trovi in descrizione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.